Record di produzione di oliva in Trentino I dati raccolti nell'Alto Garda dalla Fondazione Edmund Mack confermano l'ottima annata 2016 per gli ovicoltori della Piana del Basso Sarca, che risulta essere la più produttiva fin dal 1974, ma con buona probabilità di GFM anche dal 1936. La produzione di olio, 271,3 tonnellate, è stata molto buona e ampiamente superiore alla media degli ultimi 5 anni ma penalizzata da una resa di estrazione piuttosto bassa, 13,3%, causata dalla prolungata siccità di settembre e inizio ottobre, proprio nel periodo di maggiore sintesi e accumulo di olio nelle olive. Il merito del boom 2016 di produzione di olive, spiega il tecnico del Centro di Trasferimento Tecnologico, Franco Michelotti, è da attribuire soprattutto a un generale miglioramento della conduzione degli oliveti, ad una maggiore attenzione alla fertilità dei terreni e sostegna la crescita vegetativa delle piante e una maggiore precisione nella difesa della mosca olearia.